Cosa c'è di più delicato di una piuma sulla pelle? Questa piuma, quella di nuovo Vernel Balsam, morbido e delicato sulla pelle. Proviamo? Che morbidezza, che delicatezza! Vernel Balsam non ha coloranti ed è dermatologicamente testato. Mi lasci sentire tutta la sua morbidezza. Morbido come? Proprio come una piuma sulla pelle. Vernel Balsam, morbidezza e delicatezza imbattibile.